Un nuovo capolavoro è arrivato a Lecco ed è esposto proprio in mostra a Palazzo delle Paure. Si tratta di uno stupefacente disegno di Michelangelo Bonarroti, Il Sacrificio di Isacco, che è proprio al centro, il protagonista di questa nuova mostra che si intitola proprio Il Mistero del Padre, un percorso nella paternità proprio fra Bibbia, fede, tradizione, arte. Ancora una volta a proporre e organizzare questo splendido evento è proprio l'Associazione Culturale, la comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco. Già nelle passate edizioni abbiamo visto capolavori di Tintoretto, di Lotto, del Beato Angelico. E quest'anno appunto tocca a Michelangelo Bonarroti. Un disegno, dicevamo, straordinario, che arriva da Firenze, proprio dalla casa Bonarroti, e che stilisticamente si colloca attorno al 1530, cioè nella maturità di Michelangelo. Siamo in prossimità del giudizio universale della Sistina. E infatti la stessa figura del patriarca è così monumentale, così eroica, ricorda proprio i personaggi del giudizio universale. Questo disegno però non è da solo. Abbiamo detto che si tratta di un percorso proprio nel mistero del padre ed ecco che viene messo in dialogo ad esempio con un splendido dipinto di Giuseppe Vermiglio che è di un secolo successivo, cioè siamo attorno al 1630. Il tema è sempre quello del sacrificio di Isacco. Questa richiesta così assurda che viene fatta da parte di Dio ad Abramo di sacrificare il proprio figlio, con Abramo che fedelmente si prepara ad eseguire quest'ordine e poi viene fermato dall'angelo. Questo viene proprio raffigurato da Vermiglio, da Parsuo, che è uno dei migliori proprio pittori del Seicento, un pittore molto caravaggesco che però in questi anni, in questa tela, lo si vede, già addolcisce, mette sicuramente più serenità. E ancora non basta perché nel percorso si incontrano le formelle della porta del Battistero, quella del Brunelleschi e quella del Ghiberti, sempre con il sacrificio di Isacco. Certo, non sono gli originali, ma sono delle repliche fedelissime. Perché? Perché si vede come Michelangelo proprio studiava questi capolavori del passato, si lasciava ispirare lui che è un genio, però giustamente guardava anche a quello che i maestri del passato avevano fatto. Brunelleschi proprio in primo luogo. Insomma, una piccola mostra, ancora una volta importantissima, che tra l'altro lunedì 12 febbraio sarà visitata proprio dall'Arcivescovo. E' una mostra che, come al solito, vede coinvolti anche gli studenti che sono stati appositamente preparati, che fanno da Cicerone, che accompagnano i visitatori. E tutta una serie di iniziative collaterali che già nelle settimane scorse e poi ancora fino al prossimo 3 marzo continueranno proprio ad accompagnare questa mostra nel mistero del padre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.